Una breve passeggiata per le strade di Madrid, partendo da Puerta del Sol, dove c'è il simbolo della città, la statua con l'orso e il corbezzolo. Questa è la bellissima Casa Mayor, girovagando per le strade di Madrid si possono vedere tantissimi palazzi, perciò consiglio sempre di guardare in alto. Questa è la ultima mia visita in città, è cambiato parecchio, è stata rinnovata tutta questa zona, con Plaza de España. Ciao! Grazie a tutti! E ora qualche immagine del Palazzo Reale. Il primo al cortile interno e poi la scala monumentale color leone di Parvia. Il primo al cortile interno. Il primo al cortile interno. Madrid è una città dove è sempre piacevole passeggiare anche in pieno inverno ammirando la bellezza di tutti i suoi palazzi con le immagini di alcuni palazzi della Gran Via io concludo il mio video vi mando ai prossimi iscriviti al canale